infissi in pvc per balconi ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 ci occupiamo di fissi per abitazioni private con il sistema bisacchi infissi in pvc per porta balconi a che cosa devi prestare particolarmente attenzione devi prestare attenzione alle dimensioni perché una porta balcone non è una finestra quindi avrà un'altezza abbastanza che potrebbe essere elevata mentre una finestra a meno che non pariamo dei palazzi storici dove a palazzo madama magari abbiamo delle finestre alte tre metri ecco in una porta finestra solitamente potrebbe essere due metri venti due metri trenta due metri quaranta nelle case normali di oggi e anche case degli anni 60 anni e 70 se invece la tua porta balcone è alta due metri e mezzo due metri settanta tre metri ti sconsiglio di scegliere l'unifisso in pvc perché avendo un'altezza così elevata svilupperà una dilatazione con la conseguente incurvatura del profilo che farà passare nella migliore delle ipotesi solamente aria rumore e isolamento termico nella peggiore delle ipotesi se è molto esposto anche acqua quindi questa è la particolarità delle porte balcone al quale stare attenti con serramenti pvc se ti serve una mano per scegliere i serramenti e non sei vicino alla bisacchi quindi non ho possibilità di venderti direttamente gli infissi puoi approfittare del servizio di consulenza che ti posso fare senza conflitto di interessi ti potrò aiutare a fare le scelte migliori sul tipo di materiale sul colore sul tipo di oscuramento sul tipo di sicurezza al tipo di vetro se vuoi sapere di più vai su www.blogbisacchi.it e richiedi una consulenza personalizzata ciao e al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti